Il progetto Stulle è nato dal tratto continuo della matita che disegna i contorni dell'oggetto senza mai staccarsi dal foglio. Un segno colorato che sale e che scende fino a definirne la forma, caratterizzata dalla combinazione dei colori, dei tessuti e dei metalli. Nasce così una famiglia di sedute, tavoli e complementi dal design contemporaneo. Una serie di prodotti universali adatti ad ogni ambiente della casa. Grazie a tutti.